Buongiorno Lido, ti possiamo definire un passante, un estimatore o un amico del mosaico? Sì, penso un amico del mosaico e un estimatore. Cosa ne pensi dell'intero progetto dopo averlo visto? Sono rimasto stupefatto, non avrei mai immaginato una cosa del genere. Pensavo semplice abbellimento ma non avrei mai immaginato una cosa così grandiosa. Grandiosa. I tempi di realizzazione? I tempi di realizzazione penso che sono molto ampi. Ma se tu venissi ad aiutarci diminuirebbero? Sicuramente, più in braccia ci sono. Allora dai promettici una tua partecipazione. Tutto relativo al tempo. Allora grazie di essere qui oggi con noi. Non essere così serio perché tu sei sempre simpatico. No, assolutamente. Va bene, allora grazie. Ciao. Grazie a te. Ciao.